E tu mi faresti fare i 15 chilometri a piedi? Sì. Ma tu sei matto. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e conciglia il sonno. 40 anni? Mica li dimostri, sai? Lo so. Io ne ho 25. Neanche tu li dimostri. Grazie. Te ne davo 26. Ma che fai, ridi? E l'hai detto tu che quando uno ci fa male ci deve ridere? Ti sei fatta molto male, vero? Ma che ore sono? È tardissimo, sono le 7. Bastardo! Disgraziato, buffone, megalomani! Pallone gonfiato! Ti credi di essere? E se vuoi andare all'albergo Corona, sappi che è chiuso per restauro da due mesi.